Noi oggi rischiamo il salasso e non possiamo accettare il salasso sui pedaggi autostradali e non ancora affrontiamo il tema della sicurezza nella sua globalità che richiede un investimento di 3 miliardi di euro. Su questo e altri temi abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario e singolare che l'organo che rappresenta la volontà popolare degli abruzzesi non venga investito su un tema tra i più importanti per il futuro della nostra regione. Noi ci siamo fatti carico, abbiamo chiesto e chiediamo che venga convocato con urgenza.